Quei 221 collegi uninominali da cui dipende il risultato finale, in quei collegi la destra la possiamo battere solo noi e chi in questo momento attacca noi aiuta la destra a vincere le elezioni. Io come leader del nostro partito ho la responsabilità di far andare avanti le nostre scelte e la politica seria è questa, a me questa scena che ci sono leader degli altri partiti che passano il tempo a commentare quello che facciamo noi, mi suona anche un po' triste, devo dire la verità, vuol dire che non hanno molto altro da fare, vuol dire che dentro i loro partiti non hanno molto tempo da perdere forse, quando poi questo lo fa un ex segretario del nostro partito che si trasforma in una specie di Enrico Ameri del PD, cioè sempre a commentare cosa fa il PD, se prendete le dichiarazioni di un ex segretario del PD che passa il tempo a commentare cosa sta facendo il PD, ma io penso che dovrebbe dire che cosa vuole fare lui, credo che questa sia la cosa più importante di tutti, ognuno dice cosa vuole fare lui ed è esattamente quello sul quale noi ci stiamo impegnando in questo momento.